Musica Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione del TV38 che vi racconta i lavori del Parlamento toscano, il nostro Consiglio regionale che ha ripreso la sua attività con la prima seduta del nuovo anno. C'era un appuntamento importante, una scelta importante da compiere in vista di un'elezione attesissima, qual è quella del nuovo Capo dello Stato. L'Aula Toscana ha scelto i suoi tre grandi elettori, come da previsioni a scegliere il nuovo Presidente della Repubblica, andranno il Presidente della Giunta regionale Eugenio Gianni, quello del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il portavoce delle opposizioni Landi. Ma ricostruiamo allora questa votazione e sentiamo anche come questa scelta è stata commentata dai vari gruppi politici all'interno dell'Aula. Il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il Presidente della Giunta Eugenio Gianni e il portavoce delle opposizioni Marco Landi sono i grandi elettori della Toscana che da lunedì 24 gennaio a Roma parteciperanno all'elezione del Presidente della Repubblica. I grandi elettori, come da tradizione, sono in rappresentanza sia dei gruppi di maggioranza 2 che delle opposizioni 1. Mazzeo è stato nominato con 27 voti di preferenza, Gianni con 25 e Landi con 13. Ha ricevuto due voti anche Irene Galletti, capogruppo del Movimento 5 Stelle, registrata anche una scheda bianca. Prima delle operazioni di voto il Presidente del Consiglio, Mazzeo, ne ha spiegato nel dettaglio le modalità, visto che per la prima volta e come una delle prime esperienze in Italia, l'Assemblea legislativa della Toscana, pur convocata in presenza, ha espresso il voto in modalità elettronica. Sì, siamo soddisfatti perché la votazione è stata una votazione molto corretta, molto leale, sono state rispettate, direi, proprio quelle che sono state le proposte fatte. Noi, come maggioranza, abbiamo proposto come grandi elettori per la Toscana i due massimi livelli istituzionali, il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio. Questa è una consuetudine, ma siamo convinti anche di aver fatto una proposta di alto profilo, che è stata apprezzata da tutto il Consiglio, tant'è vero che la votazione è stata veramente molto compatta. L'auspicio ora è che ai tre che sono stati eletti come grandi elettori del prossimo Presidente della Repubblica si ha riservato la possibilità di eleggere un Presidente che sia il degno successore del Presidente Sergio Mattarella, che io ho colto l'occasione per ringraziare per il modo, l'autorevolezza, il prestigio con il quale ha rappresentato l'Italia in questi sette anni. La Regione Toscana ha eletto i propri delegati alle elezioni del Presidente della Repubblica e credo la notizia più importante è che si siano individuate le figure di carattere istituzionale, sia nella maggioranza che nella minoranza. A noi ho trovato pienamente convinti questa soluzione nel sostenere il Presidente della Giunta Eugenio Gianni, il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, e a rappresentare la minoranza sarà Marco Landi, rappresentante e portavoce delle opposizioni. Credo che sia stata un'elezione corretta nel rispetto dei singoli ruoli, quindi tre figure che avranno l'onere e l'onore di rappresentare la Regione Toscana, tutti i propri elettori, e la Toscana sarà partecipe di un'elezione, a mio avviso, di un Presidente della Repubblica che possa essere, come abbiamo chiesto in aula, europeista, garante delle istituzioni, garante dell'unità nazionale, ma soprattutto una persona in grado di respingere i tentativi e le pressioni del populismo come quelle del sovranismo. Una grande figura istituzionale e abbiamo piena fiducia e diamo mandato, quindi tre grandi elettori della Regione Toscana, di rappresentare tutti noi come Consiglio regionale, per conto nostro tutti gli elettori della Regione Toscana. L'espressione dei grandi elettori delle Regioni sono un segnale di continuità tra Roma e il territorio e l'intero suo territorio che i padri costituenti hanno voluto consegnarci, con l'impegno di garantire la rappresentatività, che è un fattore fondamentale, qualcosa che la nostra Costituzione sottolinea in ogni suo passaggio, e oltre alla rappresentatività è anche quella dell'inclusione. In questo passaggio c'è da dire che noi abbiamo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo voluto dare indicazione al Presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo, di rappresentare politicamente tutte le forze che sono espresse all'interno dell'arco consigliare, consegnando a lui questa fiducia, e dall'altra parte ci sarebbe piaciuto vedere anche l'espressione della totalità di quelli che sono i cittadini toscani. E questa totalità riguarda per la metà donne, donne che fra i tre rappresentanti che andranno a eleggere il Presidente della Repubblica non sono espresse. Alla fine ha prevalso l'intento politico a qualsiasi tipo di personalità, l'obiettivo era quello di mantenere unito il centro-destra, l'abbiamo detto fin dall'inizio, che qualora vi fosse stato un accordo tra i partiti di centro-destra, chiunque di noi fosse andato a rappresentarci in sede di elezioni del Presidente della Repubblica non avrebbe fatto la differenza, perché se c'era un accordo, chiunque fosse andato a Roma a votare per il Presidente della Repubblica avrebbe rappresentato tutto il centro-destra toscano. Così è stato, i partiti a livello nazionale hanno trovato un accordo, come era giusto e logico che fosse, l'unità del centro-destra a discapito di chi magari aveva pensato di potersi incuneare con qualche strategia strana, in spaccature inesistenti. Alla fine il centro-destra ha dimostrato ancora una volta di anteporre l'interesse politico all'interesse personale e il voto a Marco Landi ha testimoniato questo. Quindi un grande in bocca al lupo a Marco e che rappresenterà sicuramente tutto il centro-destra toscano in sede di elezioni del Presidente della Repubblica. Prima di tutto il ringraziamento va ai gruppi della Lega, di Forza Italia e di Fratelli Italia. Il centro-destra in questa occasione ha dimostrato compattezza indicando a livello istituzionale il portavoce dell'opposizione. Questo è un onore per me rappresentare la Toscana, ma anche venendo dall'isola d'Elba, a tutte le zone periferiche della nostra regione e anche tutte le isole minori d'Italia. Sicuramente è un impegno che si prende con lo spirito più alto che l'elezione di un Presidente della Repubblica deve avere e quindi cercherò di portare avanti il mandato che mi è stato dato nella maniera migliore e più alta possibile. Abbiamo detto dell'elezione vicina del Presidente della Repubblica, ovviamente un passaggio importante per tutto il nostro Paese, per la nostra politica. la Toscana darà ovviamente il proprio contributo con i grandi elettori di cui abbiamo parlato. Ma parlando delle istituzioni, in particolare di quelle non solo nazionali, ma anche di quelle europee, c'è stato un lutto che ha colpito particolarmente la Toscana. La morte di David Sassoli, il Presidente del Parlamento europeo, ma anche noto giornalista di origini toscane, legatissimo ancora alla Toscana, a Firenze e a Prato in particolare, l'Aula del Palazzo del Pegaso, lo ha voluto ricordare e ha deciso anche l'intitolazione nei prossimi tempi anche di un nuovo spazio, di una sala proprio nel nome di David Sassoli. Una rosa bianca poggiata su un tavolo accanto alla bandiera blu stellata dell'Unione europea nell'Aula riunita in memoria di David Sassoli, poi in ascolto del videomessaggio che il Presidente del Parlamento europeo inviò all'Assemblea toscana in occasione della seduta solenne per la festa dell'Europa lo scorso 11 maggio, salutato al termine con un lungo applauso. Il Consiglio regionale della Toscana ricorda così la figura di David Sassoli, morto l'11 gennaio scorso. Con una deliberazione unanime dell'Ufficio di Presidenza, il Consiglio regionale ha deciso di intitolare a Sassoli il nuovo Media Center che sarà inaugurato al primo piano di Palazzo del Pegaso nelle prossime settimane. Io oggi ho voluto ricordare in aula la figura di David Sassoli. David Sassoli amava la Toscana, David Sassoli ci ha sempre mandato dei messaggi importanti, dei messaggi forti su quella che deve essere l'Europa, l'Europa dei popoli, un'Europa in cui si riduca le ingiustizie, un'Europa attenta agli ultimi. Ecco, ad un grande uomo, ad un grande giornalista, ad un grande politico, ad un grande uomo delle istituzioni noi abbiamo deciso tutti insieme, senza distinzione di colore politico, di dedicare il nostro nuovo Media Center e oggi in aula, sulla bandiera dell'Europa, posta al centro della nostra aula, assemblea legislativa, abbiamo deciso di mettere una rosa bianca che era il segno di quando Sassoli, da ragazzo, combatteva contro ogni forma di discriminazione ed era il modo per ricordare quei gruppi di ragazzi che combattevano i nazisti. Un segnale forte e chiaro qual è la parte giusta della storia da acquistare. L'Associazione Nazionale Città dei Presepi ha prestato nel periodo delle festività natalizie come consuetudine consolidata negli anni una rappresentazione presepiale alla Presidenza del Consiglio regionale. Quest'anno la naturale rotazione tra le città aderenti ha visto arrivare alla Presidenza una pregevole opera proveniente da Castelfiorentino in provincia di Firenze. La presenza della Via dei Presepi di Castelfiorentino all'interno del Palazzo del Consiglio regionale è un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e valorizza non soltanto l'iniziativa specifica di Castelfiorentino a cui noi siamo particolarmente affezionati e che ogni anno porta sul nostro territorio tantissimi visitatori ma anche il movimento più ampio che si è creato a livello toscano e che adesso unisce tante vie dei presepi del territorio regionale. Io credo che sia un elemento significativo perché non soltanto sta nella nostra tradizione ma è anche ponte di collegamento fra le culture. Castelfiorentino ormai da qualche anno realizza una Via dei Presepi importantissima nell'ambito di Terre dei Presepi cioè della valorizzazione toscana di queste produzioni artistiche importantissime e che abbia voluto nel Consiglio regionale per tutto il periodo natalizio esporre un'opera che attiene alla Via dei Presepi di Castelfiorentino mi pare sia un elemento del ruolo che la regione toscana deve svolgere su questa materia di promozione di diffusione di un'idea di valorizzazione della nostra storia ma anche di promozione turistica in una fase dell'anno che è quella dell'inverno del periodo natalizio che è importante avere offerta in più. Quindi veramente è un ruolo determinante nel quale Castelfiorentino svolge un ruolo di primo piano. È tutto per questo appuntamento con la voce del Consiglio io vi ricordo che potete restare aggiornati sui lavori del Parlamento toscano visitando il sito del Consiglio regionale della Toscana ovviamente altrimenti potete tornare a seguire la nostra trasmissione la settimana prossima. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.